ti è stato detto che la terra e tutte le cose che le appartengono sono soltanto la manifestazione esterna della mia idea che ora è in processo di essere pensata in perfetta espressione ti è stato mostrato che la mia idea è responsabile di tutte le cose create e che essa è la causa e la ragione di tutte le manifestazioni tu e i tuoi simili compresi poiché tutte sono state pensate in esistenza da me il pensatore e creatore originario l'uno rintracceremo ora il corso di quell'idea dal principio attraverso i suoi vari stadi di espressione terrena e così pure il processo del mio pensare quell'idea nel suo presente stato di manifestazione se tu considererai attentamente quanto segue e permetterai a me dentro di dirigere la tua meditazione sopra il tuo intimo significato ti apparirà non solo il metodo per creare col pensiero qualunque cosa tu desideri creare ma anche in che modo tu venisti in esistenza e sei giunto al tuo stato presente di manifestazione in principio quando dopo un giorno di riposo durato eoni incalcolabili all'alba di un nuovo giorno cosmico la coscienza del mondo si svegliava appena e regnava ancora la calma della notte cosmica io il pensatore concepì la mia idea questa idea di me stesso in manifestazione in una nuova condizione chiamata espressione terrestre io la vidi completamente raffigurata nello specchio della mia mente onnisciente in questo specchio vidi la terra reale splendere irradiare luminosa nel cosmo una sfera perfetta dove tutte le infinite fasi attributi e poteri della mia divina natura trovavano perfetta espressione attraverso l'opera di angeli di luce messaggeri viventi della mia volontà mia parola nella carne come è nel mondo celeste dell'eterno tutto ciò io vidi rispecchiato nella mia mente onniveggente e onnisciente che poteva solo vedere riflettere l'anima delle cose ossia la loro realtà quindi ciò che io vidi raffigurato nella mia mente era la terra reale il suo principio la sua concezione in esistenza cosmica ora la mia coscienza è l'intima essenza di tutto lo spazio di tutta la vita essa è la sostanza reale della mia mente che tutto include e tutto pervade il cui centro informatore e vitalizzante è dappertutto e i cui limiti e la cui circonferenza non sono in alcun luogo solo nel regno della mia mente io vivo muovo ed ho il mio essere essa contiene riempie tutte le cose e ogni sua vibrazione e manifestazione non è che l'espressione di qualche fase o aspetto del mio essere essere è espressione non si può immaginare esistenza senza espressione quindi io tutto ciò che è sto continuamente esprimendomi che cosa esprimendo ma se io sono tutto ciò che è che cos'altro potrei esprimere se non me stesso tu non puoi ancora vedere o comprendere me ma puoi comprendere quando ti ispiro un'idea quindi se io sono tutto ciò che esiste quell'idea che è diretta da me deve essere una parte un aspetto di me stesso in esistenza cioè in espressione qualunque idea una volta nata nel regno della mia mente diviene immediatamente come ti ho mostrato una realtà poiché nell'eternità del mio essere il tempo non esiste però in te l'idea crea prima il desiderio il desiderio di esprimere l'azione e l'azione produce risultati cioè l'idea in effettiva manifestazione esterna ma io non ho desideri perché io sono tutte le cose e tutte le cose vengono da me io non ho che da pensare per produrre risultati pure quel pensiero che tu senti viene da me perché è nato dalla mia idea che io seminai nella tua mente solo perché potesse manifestarsi per mezzo tuo in vero qualunque cosa tu desideri è solo la mia idea che preme in te per esternarsi ciò che in me ti potrebbe sembrare un desiderio di esprimersi è solo la necessità della mia idea di me stesso di essere cioè di esprimere se stessa perciò ogni vero desiderio tu senta esso deve necessariamente una volta o l'altra e in qualche modo essere adempiuto ciò che nelle personalità umane è chiamato desiderio non è che l'azione necessaria della mia volontà che spinge la mia idea ad esprimersi in manifestazione esterna cioè in esistenza ma siccome io non ho desiderio e sono tutte le cose una volta che questa idea di esprimermi in questa nuova condizione fu nata io non ebbi che da pensare cioè concentrare mettere a fuoco la mia volontà sulla mia idea ossia come detto nell'altra mia rivelazione proferire la parola creativa e subito le forze cosmiche del mio essere messe in moto dalla concentrazione della mia volontà procedettero a raccogliere gli elementi necessari dall'eterna riserva della mia mente e con la mia idea quale nucleo plasmarono combinarono e modellarono intorno ad essa questi elementi in ciò che si chiama la forma pensiero di un pianeta riempiendola con la mia sostanza di vita la mia coscienza e dotandola di tutte le potenzialità del mio essere ma questo atto di pensare produsse solo la forma pensiero vitalizzata di un pianeta e la sua manifestazione era solo in uno stato nebuloso nel regno del pensiero dalla forma pensiero il potere vivificante interno dell'idea con la mia volontà localizzata su di essa procedettero a plasmare formare e a poco a a solidificare in forma materiale i vari elementi della sostanza del pensiero finché la mia idea apparve in manifestazione nel mondo delle forme visibili come il pianeta chiamato terra uno strumento pronto ad essere espressione vivente ed ora capace di contenermi e di esprimermi questo fu il corpo materiale preparato dal mio pensiero e nel quale già stava latente tutta la natura potenziale del mio essere in forza del potere formativo della mia idea interna lo stadio seguente fu lo sviluppo e la preparazione degli strumenti per mezzo dei quali io potessi esprimere in molteplici aspetti le possibilità e i poteri della mia idea i regni minerale vegetale e animale segnarono successivamente il processo di questa manifestazione e svilupparono volta a volta stati di coscienza sempre più alti e complessi i quali mi permisero di esprimere sempre più chiaramente gli infiniti aspetti e varietà della mia natura fu a questo punto che come detto nell'altra mia rivelazione io guardai la mia creazione e vidi che era buona ma restava ancora l'ultimo e culminante mezzo di espressione fino a questo punto mentre ogni strumento o mezzo di espressione esprimeva perfettamente qualche aspetto della mia natura tutti però erano inconsci di me ed erano mezzi di espressione solo come un filo conduttore lo è per il calore per la luce per l'energia erano mature ormai le condizioni per la creazione di un mezzo attraverso il quale i miei divini attributi potessero trovare espressione cosciente cosciente non solo della loro relazione con me ma anche della loro capacità e potere di esprimere la mia idea in quel momento tu e i tuoi fratelli nasceste all'esistenza nel tempo quali espressioni umane venendo in manifestazione come gli altri strumenti in risposta al mio pensiero concentrato in cui io vedevo tutta l'infinita varietà dei miei attributi realmente espressi in forme entitizzate ed esprimenti ciascuna particolarmente qualche aspetto del mio essere e ciascuna conscia di me suo pensatore ed espressore io vedevo te in espressione perfetta come ti vedo ora tu reale un attributo di me stesso perfetto poiché in realtà tu sei un angelo di luce uno dei raggi del mio pensiero un attributo del mio essere involuto in condizioni terrene con nessuno altro scopo che non è affatto uno scopo ma una necessità del mio essere tranne quello di essere l'espressione ultima e completa della mia idea io sono il tuo espressore nell'eterno non vi è tempo né spazio né individualità ed è solo per il fenomeno del pensiero nato dalla matrice della mente nel mondo della materia che sorgono le illusioni del tempo dello spazio e dell'individualità e che il pensiero cioè la creatura consegue la coscienza della separazione dal suo pensatore dal suo espressore così nacque in te la mia tendenza a pensarti separato da me ma la completa coscienza della separazione non avvenne che molto tempo dopo in principio quando tu entrasti così dapprima in espressione terrena obbedendo all'impulso che io avevo emanato per mezzo del mio pensiero concentrato tu uno dei miei attributi ti circondasti ti rivestisti della mia idea di me stesso in espressione quale il particolare attributo che tu rappresentavi essendo tu la forza animatrice di quell'idea in altre parole la mia idea di me stesso esprimentesi come quel particolare attributo divenne allora l'anima della tua particolare espressione ma quell'idea o anima non è te ricordalo poiché tu sei una parte di me essendo me stesso in espressione per mezzo di quel particolare attributo una volta che la mia idea ebbe rivestito il tuo sé essa per la necessità del suo essere incominciò immediatamente ad attrarre a se stessa la sostanza pensiero necessaria all'espressione di quel particolare attributo e a modellarla e costruirla a mia immagine e somiglianza essa così divenne un sacro tempio pieno della mia vivente presenza poiché abitato da te uno dei miei divini attributi questo tempio fatto a mia immagine e somiglianza composto dalla mia sostanza pensiero circondante e rivestente la mia idea conseguentemente è il tuo corpo reale esso è indistruttibile immortale perfetto esso il mio pensiero proiettato contenente la mia essenza vivente aspetta il tempo in cui potrà esprimersi esteriormente ed assumere forma materiale dunque primo io sono che si esprime come tu uno dei miei divini attributi secondo la mia idea di te uno dei miei attributi esprimentesi in condizioni terrene ossia la tua anima terzo il mio pensiero immaginato di te formante il tempio della tua anima ossia il corpo della tua anima in cui tu dimori questi tre formano la parte divina o impersonale di te l'immortale trinità tu il mio pensiero latente già completamente formulato plasmato a mia immagine insomiglianza ma non ancora vivificato e quindi privo di collegamento con la personalità umana che non è ancora nata